Ciao a tutti e a tutte qui è Cryptadamos e oggi vi porto un airdrop interessante di Yobbit in cui ci regalerà dei Fast Dollars non sappiamo ancora bene il valore, lo scopriamo insieme immagino ma sappiamo che per questo airdrop non dobbiamo fare il KYC dobbiamo fare solamente registrarci e compiere delle missioni per avere più Fast Dollars quindi iniziamo, io già mi sono portato un po' avanti con la registrazione ed è solamente usare la mail e basta ok dopo aver effettuato la registrazione dobbiamo verificare la mail ecco fatto abbiamo confermato la nostra email beh adesso dobbiamo vedere questo video fino alla fine e poi cliccare qui per ricevere 4700 Fast Dollars dopo aver visto il video dobbiamo cliccare qui allora siamo adesso qui sulla pagina degli airdrop qui ci dice che possiamo guadagnare fino a 4700 Fast Dollars ogni giorno e dovete cliccare su Make, questo qua, per avere un nuovo obiettivo CH significa che sta controllando se l'hai fatta APP significa che è stata approvata e RF vuol dire che è stata rifiutata e il trading per Fast Dollars sarà aperto a giugno più farming e i pump non capisco bene questo pump e il pagamento dovrebbe essere fatto sette giorni dopo il checking di tutte le task, di tutti gli obiettivi qui ho il codice di riferimento che ovviamente vi condivido qui in basso in descrizione così potete aiutare questo canale a crescere e magari faremo qualche giveaway di questi token per tutti i nostri iscritti lo abbiamo promesso anche per quell'altro però ci sono state poche persone che hanno partecipato e abbiamo fatto un dollaro quindi fare il giveaway di un dollaro mi pare un po' triste e tristezza a parte dobbiamo fare quindi tutte queste tasks quindi fare il Telegram bot clicchiamo su Make, immagino Join bot di Telegram clicchiamo qui per entrare su Telegram ecco qua il bot di Telegram si è aperto clicchiamo Start English per favore che non capisco e ovviamente adesso dovete fare tutto quello che vi dice il bot loro quindi ok adesso dobbiamo prendere questo codice copiarlo e incollarlo qua sotto e vediamo Your request has been created successfully ok la tua richiesta è stata creata con successo il pagamento sarà fatto una settimana dopo il controllo ok qui dovete depositare poi per tradare poi per fare uno swap nel DeFi market poi per fare il farming per 10 dice ti danno 1200 fast dollar questi 10 dice si immaginano per tirare dei dadi poi fare il twitter 10 messaggi in chat video in youtube un video in tiktok un post in facebook e un post in vk quindi queste sono le task che dovete fare io ne ho fatte due per il momento se no il video è troppo lungo e vi ricordo quindi di usare il link qui in basso in descrizione per accedere a questo airtop così aiuterete noi e il nostro canale a crescere io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video vi ricordo di mettere mi piace commentare di iscrivervi e noi ci vediamo al prossimo video